Ciao a tutti, vuoi mancargli? Usa questa astuzia! Prima di affrontare il tema iscriviti al canale, seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terramasco ed iscriviti al nuovo canale Crescita Personale con Massimo Terramasco di cui trovi il link qua sotto. E ti ricordo che se vai sulla home page del canale, a fianco al tastino Iscriviti, troverai il tastino Abbonati. Cliccando lì potrai scegliere tra tre livelli di abbonamento, abbonamento base con lezioni mirate, abbonamento top con lezioni mirate e videoregistrazione e seminari dal vivo, abbonamento Master Consulting con in più una consulenza telefonica. E veniamo al tema, vuoi mancarli? Allora, ci sono tre regole fondamentali che se vuoi mancarli devi assolutamente seguire. La prima regola basilare è che non devi fare tutto quello che vuole, cioè devi comprimere delle energie. Se il desiderio coincide col possesso non gli mancherai mai. Se io, diciamo, ho bisogno di tre bicchieri d'acqua e ricevo tre bicchieri d'acqua, non sentirò la mancanza dell'acqua. Se invece ho bisogno di tre bicchieri d'acqua e ne riceverò due, allora inizierò a sentire il desiderio del terzo bicchiere d'acqua. Cioè, prima quando sete è un'esigenza di bere, ma quando ricevo un po' d'acqua, non la sufficienza, poi sentirò il desiderio di avere il terzo bicchiere. E così è quello che tu devi fare. Devi dare, ma di meno rispetto a quello che vuole. In questo modo aumenterai il desiderio di farti cercare. Quindi questo è il primo punto fondamentale. Il secondo punto fondamentale si chiama roller coaster emotional, e montagne russe emozionali. Devi farli vivere esperienze diverse. Esperienze diverse vuol dire prima doccia fredda e poi doccia calda. Oppure doccia calda e poi doccia fredda. Oppure prima un'emozione di tristezza e poi un'emozione di allegria. Perché così il quid emozionale sarà più ampio. Quindi roller coaster emotional vuol dire che prima magari darai una gioia, per dire ti dimostrerai disponibile, contenta e felice, poi il giorno dopo tac, via, flop, sparirai. Quindi darai assenza. Ma che questa assenza verrà percepita ancora di più. Perché sulla base della presenza del giorno prima, ecco questo è importante, quello di riuscire a generare questo quid emozionale che si manifesta prendendo due emozioni, uno opposto all'altro. Un'emozione opposta all'altra dà subito un'emozione forte. E poi terzo consiglio importante, no routine, che vuol dire interrompere gli schemi. Tutti gli schemi comportamentali che sono messi in atto devi assolutamente interrompere. Interrompere cosa vuol dire? Vuol dire che devi cambiare, non puoi continuare a fare sempre le stesse cose. Devi imparare a interrompere gli schemi. Interrompere gli schemi vuol dire cambiare il modo di fare, cambiare l'atteggiamento, cambiare quello che vuoi andare a fare. Perché se fai sempre le stesse cose, otterrai sempre i stessi risultati. Quindi anche a livello sessuale, stimola le fantasie, cambia giorni, cambia tutto. Ogni tanto disponibile, ogni tanto no. Rinforza intermitente, ogni tanto ci sono, ogni tanto non ci sono. Ecco, questa imprevedibilità, questa, diciamo, interruzione di schema, questo cambiamento di prospettiva, essere imprevedibile, essere, come dire, inafferrabile, generare dubbi, seminare dubbi, tutto questo farà sì che lui dal di dentro sentirà una forte mancanza verso di te. E quindi sarà spinto a cercarti, sarà spinto a innamorarsi sempre di più, sarà spinto a coinvolgersi sempre di più. Bene, per questo video è tutto. Seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terramasco, iscriviti al canale, iscriviti al nuovo canale, crescita personale con Massimo Terramasco, che trovi qua sotto il link. E ti ricordo, se vai sulla home page, ti puoi abbonare su tre livelli di abbonamento e scegli l'abbonamento che preferisci. Per questo video è tutto, ti do appuntamento al prossimo. Ciao!